Ciao a tutti, sono Riccardo Merelli, ho 33 anni, fa stranissimo dirlo perché oggi è il mio compleanno il 21 aprile sono un life coach ma oggi non faccio il life coach, oggi vi faccio vedere alcuni dei regali che ho ricevuto per il mio compleanno che non avendo quasi nessuno vicino con il corpo, ecco ho però accettato con Joy chi in qualsiasi modo mi è stato vicino con il cuore, quindi adesso l'introduzione è finita e non vi lascio al video ma ai video quindi tenete l'occhio la playlist perché ce ne sarà più di uno ovviamente non li introdurrò tutti, ciao tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Riccardo, tanti auguri a te, buon compleanno ti mando un grande grande abbraccio e ormai sei una persona anziana, mi sembra ne fai 86, non mi ricordo vabbè comunque tanti auguri ciao bello, tanti auguri, tanti auguri caro Ricchi ti faccio tanti 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 auguri per il tuo compleanno e che questa possa essere per te una giornata speciale che tu possa essere davvero felice, ti mando un bacio e ancora auguri ciao Ricchi, ti auguro un buon compleanno da trascorrere con le persone che ami tanta serenità sei una bella persona e ti stimo per questo e che dire, tanto tanto di tutto ciò che desideri per te un bacio buon compleanno Ricchi buon compleanno con tutto il cuore anche se non ti conosco tantissimo sono felice di poterti augurare buon compleanno e dirti tanti tanti ma tanti auguri caro Riccardo, ti auguro tanti auguri di buon compleanno ciao ciao Riccardo, tantissimi auguri buon compleanno cento di questi giorni ti auguro una buona giornata ciao, auguri ancora ciao Riccardo noi ci conosciamo ormai da diverso tempo sei stato anche tu nel mio primo gruppo hai mosso i primi passi su Telegram e ci sei appassionato anche tu come noi hai conosciuto tanta gente hai fatto il tuo percorso e sono molto contenta che hai una radio tua che gestisci che proponi cose che coinvolgi anche gli altri perché anche se non hai un gruppo Tugo questo contribuisce comunque ha fatto un po' il nome in mezzo a tutte queste radio che ci sono su Telegram questo mi fa molto piacere e dai spero che le cose per te vadano bene buon compleanno e ti mando un abbraccio un abbraccio grandissimo ciao Riccardo sono anch'io qua con tutti gli altri per augurarti un buon compleanno ti faccio i miei migliori auguri tutto ciò che vuoi tutto ciò che desideri auguri ciao Ricci colgo l'occasione in questo giorno speciale per te di farti i miei migliori auguri auguri ciao ciao happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Riccardo che dirti Sei un ragazzo che ha tante qualità Sei riuscito da solo a gestirti un canale Tanta gente ti ha seguito perché ti vuole bene Quindi ti auguro tanta tanta felicità Mi raccomando festeggia Bevi alla faccia di chi ti vuole male Ti voglio bene Lo sai che quando vuoi sono disponibile Tanti auguri Ciao Riccardo Volevo farti tantissimi auguri di buon compleanno E volevo dirti che sei una persona genuina E rimani sempre così come sei E continua sempre così con la tua radio Con le tue belle idee E ti mando un bacio e buon compleanno Ciao Riccardo Io ti mando questo messaggio da un luogo un po' particolare Perché sono a bordo come puoi vedere E ho dell'attività Questo è il ponte di volo E niente Desidero augurarti buon compleanno Ricordati che ti voglio bene Soprattutto e ti auguro tanta tanta tantissima felicità Tutta quella che vedi Un abbraccio Ti voglio bene Ciao Ciao Riccardo Tanti tanti auguri di buon compleanno Ciao carissimo Riccardo Ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno Spero tu possa passare questa giornata nel migliore dei modi Ti auguro tutto il bene di questo mondo Ti abbraccio forte e ti mando un bacione Buon compleanno Tanti auguri Ciao Ehi tu dove stai andando Non hai visto che questa è una playlist Siccome i video sono tutti bellissimi Non puoi lasciare questa playlist senza guardare gli altri Ciao Ciao Ciao